Il programma è realizzato con il sostegno della Banca Popolare del Cassinate. 3 a 0 a favore del Cassino. E sfisca in questo istante il signor Frank, decretando la fine dell'incontro e il successo del Cassino. Cassino che vince qui a Minturno 3 a 0. Vi ricordiamo che le reti sono state messe a segno nel secondo tempo. Tutte e tre le reti, due reti di Radu e una di Perrotti. Vediamo che gli azzurri vanno a salutare il pubblico del Cassino. Ed è il pubblico del Cassino che gli omaggia per la prestazione avuta sul campo. Bella, bella, vincente questa gara. Ed ecco, prima giornata del campionato. Il Cassino vince qui sul campo del Minturno. Cassino che vince sul campo del Minturno. Soddisfatti il pubblico del Cassino per questa vittoria sonora. Ed è veramente bello vedere questi ragazzi dopo aver fatto un ritiro massa grande sul campo del Salvedi. Oggi all'esordio del campionato portano a caso un risultato clamoroso ma che non fa nessuna, assolutamente nessun... perché ha meritato di mettere a segno le tre partite, i tre gol per il Cassino. Una soddisfazione enorme. Questi ragazzi hanno stentato un poco ma già nei primi minuti si vedeva che la differenza di classe la differenza di questi uomini anche se poi il Minturno, tutto sommato, voglio dire con questi ragazzi non è dispiaciuta. Ma a prescindere del tasso tecnico che noi conoscevamo di questi ragazzi quello che mi ha impressionato è la voglia di vincere il carattere che si rispecchia a quello dell'allenato pure quindi gli ha dato già il suo modo di fare, il suo modo di agire e il suo modo di interpretare il calcio. Quindi io sono contentissimo e sono contentissimo soprattutto perché Radu che è un 97, uno del Vivai uno che l'anno scorso giocava nei nostri allievi oggi ha dimostrato che anche in questa categoria riesce a fare la differenza. Ha fatto due gol, sono contentissimo ma soprattutto grande prova di Calcagni, di tutti perché anche se Calcagni non ha segnato veramente ha dato l'anima. Abbiamo detto in diretta che meritava il gol quel palo insomma lo ha impedito di... Va bene però ha dato l'anima veramente mi è piaciuto l'approccio alla partita di tutti quanti quindi questo qua. Bene ringraziamo, vediamo il presidente soddisfattissimo non potrebbe essere diversamente siamo qua in compagnia con il direttore sportivo del Cassino va bene direttore prima partita del campionato come si dice chi ben comincia è a metà dell'opera bene noi sapevamo benissimo che questo era un campo molto ma molto difficile perché noi siamo una squadra molto tecnica molto preparata quindi quello che poteva probabilmente prevalere che è prevalso per quanto riguarda noi è stato l'agonismo e la voglia di comunque lottare su tutti i palloni e cercare di quanto prima di sbloccare la partita perché nella nostra testa ci stava che una volta sbloccata la partita poteva diventare più facile e così è stato io faccio un applauso a tutti perché veramente hanno dato dimostrazione di carattere di attaccamento e di voglia di vincere Una domanda a Nando Carbone Nando, il prossimo impegno è mercoledì notturno a Cassino Coppa Italia io penso che nemmeno lì il Cassino ha voglia di trascurare questa manifestazione No, il Cassino io già l'ho detto altre volte ritengo che debba giocare voglio dire per il risultato finale sia in campionato che in Coppa perché abbiamo la potenzialità di poterlo fare poi magari il campo ci dice cose diverse però noi non lasciamo niente per strada Speriamo che l'invortunio capitato a Giglio non si tratta niente di serie ricordiamo che oggi hanno dato forfè per ragioni fisiche sia terra che l'altro giocatore che sconda una squalifica dell'anno scorso quindi la compagine è ancora da vedere in terra Sì, oriente e terra però devo dire che chi è sceso in campo non ha fatto rimbiangere niente anzi ha giocato all'altezza della situazione quindi questo vuol dire che noi abbiamo una rosa non abbiamo 11 titolari noi abbiamo una rosa completissima che è in grado di giocarsi tutte le partite e con chiunque io per questo devo ringraziare comunque il presidente e i dirigenti tutti perché a livello unitario voglio dire abbiamo costruito tutti assieme questa realtà che abbiamo visto Ti senti di dire che un giocatore oggi si è distinto dagli altri? Ma io non mi sento di dire che un giocatore si è distinto dagli altri perché hanno giocato tutti fortissimi poi se vogliamo dire che Radu è stato la ciliegina sulla torta perché come ricordava il presidente è un ragazzo che l'anno scorso giocava negli allievi e oggi in questa categoria ha dimostrato ha dimostrato un veterano ha dimostrato esatto di essere un veterano un ragazzo che magari giocava da tempo in questa categoria e l'ha dimostrato perché ha fatto due protezze per quanto ho visto io Siamo in compagnia con mister Pernici 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 Però abbiamo visto che i due ragazzi sono stati bravi almeno per la prima i primi 45 minuti veramente hanno tenuto molto molto sospeso diciamo il risultato non era certo di niente poi è venuto fuori diciamo così il carattere dalla squadra avversaria e anche perché hanno il tasso tecnico Sì l'analisi è perfetta per cui noi l'unica cosa sapevamo che oggi doveva essere un test per tutti e ci ha francamente un po' sorpreso perché avevamo sette undicesimi nuovi di una squadra che l'anno scorso è stata praticamente un po' per infortuni un po' per qualche partenza quindi alla fine avevamo sette, otto se non ricordo male ragazzi nuovi che dovevano misurarsi contro un Cassino ben attrezzato, ben organizzato e tutti sappiamo che il Cassino sarà la squadra che sicuramente farà da traino a questo campionato e in più l'esperienza del Cassino ha fatto sì che il Minturno ha perso dove se non ricordo male il primo tiro importante il Cassino ha fatto a trentasesimo quindi per noi sono tutti test importanti ovviamente non era questa la partita che si poteva non abbiamo sia noi che loro ancora i cosiddetti novanta minuti ripeto per noi era importante capire se i ragazzi potessero fare un tipo di gioco che a Minturno piace abbiamo detto che sarà difficile per tutti venire qui e vincere le partite sì, questo deve essere anche una caratteristica diciamo ambientale di gruppo, spirito di gruppo di sacrificio però vorremmo anche migliorarci un pochino tecnicamente dove abbiamo un po' avuto troppa fretta forse la paura di fare qualche errore ripeto il più anziano 89 quindi una squadra quasi junior quindi va bene così va bene così mister grazie auguro per il campionato avremo modo di rivederci e commentare insieme il campionato in corso sempre gentilissimi, grazie siamo in compagnia con l'artefice di questa compagine il mister Santor Grossi appena terminata la partita sono passati 5-6 minuti una grande soddisfazione mister tre gol qui a Minturno non è facile per nessuno non lo sarà facile nemmeno per le altre compaggine accreditate ma sicuramente sono felice sono contento perché dopo tanto tempo ritornare ad allenare a Cassino e giocare la prima partita su un campo secondo me ostico difficile sicuramente da giocare vincere 3-0 secondo me è una grossa soddisfazione sono contento la squadra ha dimostrato sul campo che è una squadra che vuole vincere a carattere a gioco a tutto per puntare fino alla fine alla vittoria finale sono poi sinceramente permettetemi avere un pubblico così dietro che ci sostiene che ci spinge a dare sempre qualcosa in più penso che tra l'altro mister oggi è stato correttissimo sì sì molto corretto e così deve essere perché così capiscono l'importanza di questo campionato per noi perciò dicevo che spingi da questo pubblico che ci sostiene così forte e pensa che noi diamo sempre qualcosa in più e penso che tre gol ci stanno tutti abbiamo avuto anche altre occasioni però bene o bene abbiamo sofferto pochissimo su un campo sinceramente per noi molto difficile perché è una squadra tecnica giocare su un campo che insomma da fuori sempre è bello dentro ci stanno 6-7 cm di sabbia dentro insomma e non è facile perciò questo ci gratifica per il lavoro fatto fino ad oggi dobbiamo continuare in questo modo allenarci così e speriamo ecco di ripeterci già domenica in casa contro Roccasecca e perché no anche mercoledì sede sicuramente dimenticavo la Coppa Italia sentimi è una domanda oziosa ma da parte nostra è quasi d'obbligo che bisogna essere un po' provocatorio sono stati tutti bravi lo dico io sono stati bravissimi tutti quanti ti ringrazio però devo spendere mezza parola per Corsale Radu Lucchese e tutti quanti insomma ma beh guarda a me non piace mai andare sul singolo però credo che oggi anche io a prescindere tutta la squadra secondo me ha fatto una grossa partita non ce ne sta uno che ha giocato male però penso che chi è stato un artificio oggi per mettere è stato il 97 Radu Radu ha fatto delle cose eccezionali ha giocato da uno che secondo me è un altro ragazzo che secondo me è fortissimo che fa la carriera secondo me perché ha tutto per diventare forte a prescindere da tutti hanno giocato tutti bene però lui per me oggi secondo me è stato la cittadina sulla torta mister abbiamo incontrato appena finito la partita il presidente rosso era emozionatissimo ma contento ma il presidente sa benissimo quale sono le nostre idee mi ha voluto a tutti i costi ha detto personalmente che la squadra rispecchia la tua personalità ma questo lo ringrazio ma è stata una sua scelta no certo io ogni volta che vado in campo penso a lui perché mi ha dato una grossa soddisfazione quella di ritornare a allenare la mia città perciò con tutto rispetto per tutti quanti i dirigenti per la tifoseria però lui ha il merito di avermi scelto e ogni vittoria che faccio sinceramente qualcosa in più a lui perché mi ha ridato questa gioia perché qualcuno me l'ha tolta tanti anni fa e lui me l'ha ridata perciò una grande soddisfazione e voglio dire un'altra cosa questa vittoria la voglio dedicare a una persona che non c'è più un mio compaesano di Caira che abitava giovane morto giovane che sinceramente ogni domenica sento la sua mancanza sugli spalti perché era una persona molto legata a me e questa vittoria dedica a lui Mattia Perrotti autore di una rete e poi sul suggerimento ancora un'altra rete di Radu senti Mattia io non mi sorprendo perché ho imparato a conoscerti durante il ritiro e quindi è stata una partita qui non era facile vincere perché è un campo che non consente il gioco una squadra come la nostra sacrificata perché è una squadra tecnica ma veramente siete stati bravi con la voglia la cattiveria quella giusta quella agonistica che nel calcio serve si non era non era facile su questo campo comunque andare a vincere loro sono una squadra sapevamo l'avevamo preparata la partita così che comunque era una battaglia lottare su tutti i palloni non era facile alla fine siamo stati davvero bravi e questa secondo me questa vittoria vale doppio perché parecchie squadre qui non so se fanno i tre punti perché comunque noi siamo stati bravi l'abbiamo preparata con il mister tutta la settimana così e diciamo siamo davvero soddisfatti di questo inizio ma ce l'aspettavamo perché è dal 28 luglio che siamo partiti di ritiro e siamo concentrati sull'obiettivo finale che è la vittoria grazie Mattia stiamo qua insieme al giovanissimo Rado Rado oggi è stata una partita stupenda la tua ma io non mi sorprende perché ti conosco già quindi so di che cosa sei capace ma raccontaci un attimino quale sono state le tue impressioni le emozioni ricevute appena appena la palla è andata in rete è stata un'emozione bellissima perché è la prima partita che ho fatto con la prima squadra non sono parole non ho parole vedi l'emozione quando ho visto la palla dentro ho detto ecco ecco non ho fatto non sapevo più che fare non sapevo più che dire non ci stavo capire niente bene senti hai fatto una grande partita insieme ai tuoi compagni che hanno saputo certamente conservare questo tuo tesoretto che avevi messo da parte nel secondo tempo ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra dice il mister si riprenderà con la stessa voglia mercoledì sera certo certo non è che con due gol ho fatto chissà che lunedì iniziamo l'allenamento e si va sempre avanti grazie il programma è stato realizzato con il sostegno della Banca Popolare del Cassinate